Ben arrivati a tutti al nuovo bellissimo, non bello, bellissimo web intervista di oggi e in questo web intervista noi incontriamo una persona importante per me che è Giuliano Ricciardi. In realtà Giuliano Ricciardi non è conosciuto così, si conosce come il nome di vita da ventenne. Ben arrivato Giuliano, siamo felici di averti qui. Ciao. Dicci un po' Giuliano, parlaci un po' di te, benvenuti a tutti. Intanto, scusate, diteci dove siete, io lo chiedo sempre, dove siete e cosa state facendo? Benvenuti a tutti, grazie di essere entrati. Allora, io sono Giuliano Ricciardi, ho il canale vita da ventenne, lo gestisco e pubblico video. Lo scopo del mio canale è quello di far immedesimare le altre persone in me, quindi io sto compiando un cambiamento nella mia vita, un grande cambiamento, chiamiamolo così, e spero che molte persone riescano a guardare il mio canale, immedesimarsi e prendere, ora non dico le stesse decisioni mie, però delle decisioni anche drastiche su come cambiare la propria vita, se sono infelici. Giuliano, questa cosa del come, guarda, io sono affascinato da questo discorso che stai facendo, come cambiare vita se non si è felici e dal prendere anche decisioni drastiche. Ho visto i tuoi video, poi adesso ne parliamo un po', perché ripeto, mi hanno colpito molto alcune cose che hai detto e che hai fatto, ma la cosa che più mi è stata richiesta, ci è stata richiesta di parlare, poi per quelli che lo vedranno adesso in diretta e per quelli che lo vedranno indifferita, è questa storia dello sperimentare cose strane, nuove, che non so esattamente strane, sicuramente nuove. Allora io adesso ti chiedo, come ti è venuto per la testa di aprire un canale in cui fai queste cose, perché non è che è nato perché tu volevi diventare un youtuber famoso, almeno non credo, quindi facci sapere come mai ti è venuta. Allora, ci sono tantissime motivazioni, io ragiono spesso su queste cose, sul perché ho preso delle decisioni, e spesso io magari prendo una decisione, credo che la motivazione sia una, poi magari col passare del tempo capisco che la motivazione era completamente un'altra. Quindi io quando ho aperto il canale ho pensato, ok, voglio cambiare vita, perché non mi sento bene con me stesso, non lo so. In realtà avevo visto Simone Workout, non so se lo conosci, è uno youtuber che è famoso abbastanza, italiano, lui era anoressico e ha portato su YouTube la sua strada da essere anoressico, essere palestrato super pro, no? E io ho detto, perché non fare la stessa cosa? Da questo mi è venuta l'idea. Poi, diciamo che l'idea principale all'inizio era questa, Poi da un paio di mesi mi sono accorto, da un paio di mesi mi sono accorto che in realtà io avevo preso questa decisione, perché ero rimasto abbastanza solo, ero stato lasciato da relativamente poco, più non avevo amicizie. Da una ragazza dici? Sì, da una ragazza. Sì, da una ragazza. E più non avevo amicizie, comunque poche persone che conoscevo, e ho deciso di buttarmi così, perché semplicemente non me ne fregava quasi niente, volevo conoscere persone, volevo fare amicizia, mi sentivo solo e triste, e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. Ho visto questa cosa della solitudine, nel discorso di sentirsi soli, oddio, sono solo, cosa faccio? Continua, scusa, eh? No, per me la solitudine è uno dei fattori fondamentali della mia vita, cioè mi sono sentito solo per tanto tempo e non l'ho capito, e questo forse è uno degli errori principali che ho fatto dall'inizio. Cioè non hai capito perché ti sentivi solo? Non ho capito, non il perché mi sentivo solo, il perché mi sentivo triste, diciamo, non ho capito che mi sentivo triste perché mi sentivo solo, ecco. Ok. Quindi sì. E questo ti ha portato, mentre arrivano tutte le persone, sto vedendo che arrivano dal numerino, salutiamo tutti, ciao ragazzi, ben arrivati, scriveteci da dove siete, fate sentire anche Giuliano a suo agio, perché non è facile fare per la prima volta un web intervista con noi, anche se noi ci siamo, ormai lo accogliamo a braccio aperte. E quindi Giuliano, questa cosa, ciao, aspetta che intanto salutiamo Nicola, ciao, ben arrivato Ricola. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Quindi tu non sapevi, guarda che questa cosa è fighissima, perché tu stai dicendo che noi, che siamo tutti soli in questo momento, perché questa situazione è una cacca, insomma, siamo chiusi da un bel po' di tempo qua dentro, dentro casa, o chiusi o strachiusi, insomma, e tu ci dici, io in questa chiusura mi sono sentito solo, non sapevo perché stavo male, perché stavo solo. E quindi che è successo? E quindi ho iniziato questo canale YouTube, ho iniziato a, diciamo, organizzare meglio la mia vita, più che altro segnarmi cosa facevo nella mia vita. Quindi segnarmi, magari la sera, arrivavo la sera e dicevo, ok, perché stasera sono triste, non mi sento soddisfatto? E dicevo, ok, oggi ho fatto, ho studiato, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto un vuoto di cose, però sono lo stesso triste. E questa cosa non ha senso, non aveva senso, secondo me. Poi dal, questo era inizio gennaio, questa cosa, gli inizi di gennaio, ho pensato, ho detto, cavolo, io sono solo, e questa cosa potrebbe dipendere da quello, questo fatto di sentirmi vuoto dentro, potrebbe dipendere dal fatto che sono solo. Ho capito. E quindi, e quindi praticamente, nel video dei 20 anni non amici, lo spiego tutto, spiego tutto il percorso che ho fatto, ma ho utilizzato, io utilizzo la noia per uscire dalla zona di comfort, molto spesso, quindi ho utilizzato la noia per parlare con altre persone. Quindi mi sono dato, ok, la prima settimana, un quarto d'ora al giorno, devo per forza parlare con qualcuno, per forza. Quindi mi sono ritrovato, tipo il primo giorno, che era così, fermo, niente davanti, e dovevo trovare il coraggio per riscrivere. Devo dire qualcosa? Devo trovare il coraggio per riscrivere, magari, gente con cui avevo chiacchierato cinque anni fa, cinque anni prima. Certo. E durante la prima settimana, infatti, è andata abbastanza male, ho cercato magari di giocare online con qualcuno, roba di questo tipo, però... Ti sei buttato sul gioco, perché dici, gioco ammortizziamo un pochino la cosa. Ok. Però ho visto subito che non funzionava, perché non era il mio stile di vita giocare. Cioè, io dovevo cercare persone che avessero più o meno, cioè, facessero più o meno quello che faccio io, no? Eh sì. Quindi l'università, cosettini. Esatto. E quindi, niente, dopo questo ho riscritto a gente con cui avevo parlato prima, ho scritto a nuove persone, il canale ha cominciato a prendere il picco, e quindi diverse persone mi hanno scritto a me, soprattutto... Perché cresce una meraviglia sto canale, lo dicevamo, va bene? E niente, quindi grazie a questo, poi mi sono messo a parlare, mi sono impegnato, ho creato un gruppo Telegram apposta per questo mio problema, nostro problema, perché alla fine di tante persone... Con il viso. Sì, sì. E adesso, non dico che ovviamente in due, tre mesi non ti fai degli amici veri, però parlo con diverse persone, tante persone, insomma, e dedico proprio del tempo alla socializzazione. All'inizio è proprio qualcosa di drastico, tipo tre ore giornaliere per forza. Ora è molto a caso, diciamo così, perché all'inizio non mi andava, sinceramente. Anche se... Devo parlare! Ma che gli devo dire? Ho capito. Guarda che... Aspetta, eh, Giuliano, mentre parli, io sapevo che queste cose, perché io ho intuito che Giuliano fosse un fenomeno, non so perché, e... Ma lui si è imbarazza, perché diceva... In realtà, Giuliano, come dicevamo poco fa, ha la capacità, te lo dico, Giuliano, hai la capacità di stimolare nell'altro limitazione. Cioè, la gente, quando ti ascolta, dice anch'io, 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 quindi, quando tu dici, ho fatto questo, la gente dice, forse lo dovrei fare anche io. No? Allora, a parte salutiamo alcuni, non so chi siano, Silvia, ecco da Torino, Elena, Paolo, e Silvia Galantini. Silvia ci scrive, io soffro di ansia sociale e ho fatto la stessa cosa. Vedi che... O sapevo andare a finire così. Cioè, credo, Silvia, confermacelo, tu ti sei forzata a fare, questo apre un ventaglio di discorsi terribile, no? Non ne parliamo. Tu ti sei forzata a fare. Adesso, Giulia, io continuo a chiederti quali altre cose, oltre a questa, tu ti sei forzato, passami il termine a fare, perché poi parliamo della parola forzato. Perché la gente dice, eh, non ti devi forzare a fare le cose. Vediamo. Intanto sentiamo che ci dice Giuliano. Poi, che altre cose, Giulia? Me ne stavi dicendo in backstage, me ne stavi dicendo un paio prima, che a me mi hanno lasciato molto interessato. Racconta. Sì, vabbè, allora, io sul mio canale porto diverse, ho portato diverse routine, quindi la routine di Giugissima, che è una ragazza che magari studia otto ore al giorno di seguito. Quindi per una settimana ho fatto quello. Poi una settimana l'ho passata senza tecnologia, una settimana ho copiato la routine di John Fish, un altro ragazzo, sempre studente universitario, che si programma ora per ora, precisamente. Sì, cose di questo tipo. Però per me non sono state robe forzate. Cioè, se io avessi dovuto scegliere, non so, se mi fossi forzato a fare una di queste routine, non avrei, non sarei mai riuscito a trarre le conclusioni che ne ho tratto, soprattutto da quella di Marcella Scani, dove io, Marcella Scani, faccio una mini spiegazione, lui prende, se non ricordo male, tre ore, dopo il pranzo, per parlare con la sua ragazza, amici, gente di questo tipo. E io, durante quella settimana, che era la settimana, diciamo, io da quando ho iniziato questo, mettermi nella zona di, uscire dalla zona di comfort, così, per parlare con altre persone, quella, se non ricordo male, era la terza settimana, o la quarta, insomma, e lì mi è toccato stare veramente tre ore, e il primo giorno, il primo o secondo giorno, ero tipo, aiuto, cosa faccio, non ho nessuno con cui parlare, ecco. E grazie a quello, davvero, mi ha aiutato tantissimo. E io ho sempre scelto questo. Io ho sempre scelto questo routine perché mi è andata in quel momento. Esempio, la scorsa settimana, ancora questo video deve uscire, sono stato una settimana senza parlare. Questo perché? Perché, intanto, non lo so, volevo provarlo, mi sono sentito come fortunato anche, per avere la possibilità di parlare, ecco, in confronto ad altre persone. dopo, era meglio, continua, scusa. Sì, e poi, e poi mi andava anche di far passare il messaggio, perché io sono stato sempre una persona, molto zitto, molto taciturno, a scuola. Sempre zitto? Sempre zitto, sempre. Soprattutto a scuola, era uno dei miei problemi principali, in realtà, ancora, quando siamo in gruppo, sono spesso quello che sta zitto, e insomma, faccio parecchia fatica. Sì, faccio parecchia fatica su questo. E quindi ho detto, come parlare di questa faccenda, in modo anche, magari, divertente, mettendoci una pazzia nel mezzo? Ho detto, potrei chiacchierare di questa cosa, in più, metterci questa roba della settimana, come mi sono sentito durante la settimana, perché comunque, durante la settimana, senza parlare, ho provato emozioni, che sono diverse da quelle normali. Ho provato più angoscia, angoscia, rabbia, e sì, e ho ragionato sul capito, come mai ho provato queste emozioni, insomma, e lì è partito un ragionamento, che tipo, sono stato due o tre ore a ragionarci. È molto interessante, perché Giuliano, ne stavamo, vagamente stavamo dicendo, che questa pratica del non parlare, del non fare, del forzarsi a fare, del forzarsi a non fare, sono frequenti, in alcune, in alcune sperimentazioni, che le persone fanno, per andare oltre i propri, limiti, tu hai detto, la mia zona di comfort, cioè, qua, io ho sempre fatto così, questo è, perché a me mi piace, parlare pure italiano, questo è quello che ho sempre fatto, adesso provo a fare qualcosa di nuovo, perché vedo se si sblocca, sblocca qualcosa, è quello sbloccarsi, e andare oltre, il modo in cui siamo sempre stati. adesso, mentre parliamo, ciao Mauro, mentre parliamo, tra l'altro, Mauro è un'altra persona, te lo dico, perché abbiamo parlato per messaggio, che fa proprio quello che hai fatto tu, cioè, lui è riuscito a andare fuori, completamente, dalla sua zona di comfort, e ha preso il libro, i tre mostri da uccidere all'esame, l'ha messo in pratica, e ha cambiato tutto quello che faceva nello studio, presto a poco, Mauro scrivi, conferma o disconferma, quello che sto dicendo, ben arrivato quindi tra noi, e quindi come vedi, le persone che ci stanno ascoltando, vivono o hanno vissuto, dei blocchi, dei rallentamenti, degli incasinamenti, dove? Nello studio, nel lavoro, dove pare, nelle relazioni. Per esempio Silvia, ricordo che fece un webinar, dice, anche quando ho fatto il webinar, con il webinar del Memo Via Origin, insieme, del corso Memo Via Origin, insieme a noi, vedi che, Mauro dice, confermo, sono riuscito a sbloccarmi, a fare quello che dovevo fare, e questo, come vedi subito dopo, genera ammirazione, perché, le persone, quando, e in questo caso è sempre Silvia, un'altra Silvia, che ci sta dicendo, è ammirata dal fatto che ci sia riuscito, cioè, capiamo che, tra poco c'è anche una domanda di Nicola, che il leader, la persona che guida, la persona che è capace di guidare gli altri, mostra che qualcosa si può fare di completamente diverso, da quello che si è fatto fino a quel momento, e siccome tutti noi siamo infognati, nelle cose che abbiamo sempre fatto, a un certo punto diciamo, e no, mo basta, mo basta veramente però, e cambiamo qualcosa, e quando lo facciamo, tutti quelli che sono rimasti bloccati, dicono, vedi che bravo Giuliano, caspita, vorrei proprio essere come lui, pam, ecco di là, che diventi, un, io ti ho preannunciato, che tu sarai uno youtuber famoso, in futuro, perché, sei in grado, di fare questo, che poi, l'obiettivo del nostro webinar di oggi, tra l'altro, c'è stata una domanda di Ricola, che dice, a che ora ti alzi la mattina, hai provato pure qua, qualche routine in proposito? Allora, io a che ora mi alzo la mattina, ho faticato tantissimo per sta roba, perché, all'inizio, il primo mese soprattutto, facevo una specie di ciclo, che, può sembrare strano magari, per persone più, adulte di me, però, a parecchi ragazzi, capita questa cosa, ho notato, perché molte persone mi hanno scritto, quindi magari, andavo a dormire, sempre a mezzanotte, e mi svegliavo alle sette, alle otto di mattina, poi, un giorno, non so perché, non mi riuscivo a dormire, e andavo a dormire alle otto di mattina, questo era provocato da ansia, e roba di questo tipo, quindi non era, non è sicuramente, nel senso che stai sveglio tutta la notte? Stando sveglio tutta la notte, e quindi, il giorno dopo, distruggevo tutto, e poi mi toccava, insomma, non era semplice. perché non eri in forma, ovviamente, cioè voglio dire, non è, questo, in realtà, ovviamente, lì per lì, stavo cercando una soluzione, e le soluzioni che ho trovato, sono state, uno, quando mi alzavo la mattina, dovevo per forza avere qualcosa, che devo fare, che voglio fare, in questo caso, io ho, una specie di quaderno, dove mi scrivo, per dieci minuti, venti minuti, in realtà, scrivo, e scrivo sempre le stesse tre frasi, che sono, sono un bravo studente, sono un youtuber competente, sono un fidanzato soddisfacente, e lo faccio, per alzarmi l'autostima, parte così, e, sì, avevo insicurezze, esatto. Sì, aspetta che Mauro ha scrittato insicurezze, molte, dici, dici. E quindi, ho questa cosa di dire, ok, mi alzo, e non inizio col botto, facendo cose, tante cose, inizio, tranquillo, tranquillissimo, alzandomi, il morale, la tua stima, insomma, quello che è, più ascolto musica, ascolto un podcast, quello che mi va, comunque, venti minuti sono abbastanza, questa cosa per la mattina, invece, per la sera, quello, è stato un po' più difficile, perché la mattina è più semplice, alzarsi presto, è più semplice dormire meno, in realtà, che, almeno per me, eh, questo per me, è più semplice dormire meno, che andare a letto preciso la sera, e per andare a letto preciso, mi sono messo a fare ginnastica ogni giorno, ora, mi sono fatto male alla mano, quindi un po' smesso, lo facevo più raramente, però, quello ha aiutato tantissimo, cioè, fare ginnastica anche 30 minuti, 30 minuti facevo al giorno, però poi la sera ero stanco, riuscivo a dormire. Fantastico. Sono soluzioni semplicissime, però se uno non ci pensa, dice, questo, eccolo là, un miragl, questo volevo dire, che tu, questo volevo far notare, che ci sta ascoltando, allora, chi ci sta ascoltando e guardando da tutta Italia, in questo momento da varie parti d'Italia, sta dicendo, sta pensando, secondo me, ragazzi, ditelo se è così, che, quante volte noi adottiamo delle soluzioni stranissime, ne proviamo 350 mila, quindi scrivete le vostre soluzioni stranissime, che avete provato, per fare quello, per fare quell'altro, cioè, per studiare ho provato questo, 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 questa è roba complessissima, per svegliarmi presto, ho provato questo, 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 per andare a letto, bum bum bum, invece Giuliano, qua, nel suo canale, ci fa vedere, infatti iscrivetevi al canale Giuliano, a canna figata, ci fa vedere, che, tutto questo, provare mille cose complicate, a volte è quasi deleterio anzi che è molto più semplice che hai fatto mi sono messo la mattina mi sono messo un quaderno senza corsi cose strane visualizzazioni mi sono messo un quaderno e scrivo sempre le stesse tre frasi perché mi danno mi fanno sentire dopo un po' perché sai il cervello dopo un po' si convince di quello che dice e va in quella direzione a sera come fai a dormire che routine che tecniche usi faccio un po' di attività fisica a sera così sono stanco e dormo capite che questo rivoluziona potrebbe rivoluzionare in un certo senso il campo dello sviluppo personale adesso Giuliano tra l'altro tu di cose a parte l'allenamento a parte i mantra chiamiamoli così ne hai fatte tante questo del silenzio è allucinante che tra l'altro le emozioni che tu hai provato sono frequenti nel digiuno nelle settimane di silenzio nel ritiri di meditazione insomma sono sono frequenti quelle che ci stai dicendo che cos'altro hai provato per curiosità che poi vediamo il come fare cioè dobbiamo dare ovviamente uno schema a chi ci ascolta no dire guarda vuoi cambiare qualcosa fai così troviamo lo schema comune vai sì sì beh cosa ho provato durante quella settimana solitudine provo spesso solitudine forse non è un problema mi sono stato tanto attaccato alle persone sì angoscia e rabbia soprattutto e poi ho capito a fine settimana ho fatto sono stato tre quattro ore a riflettere sul perché ho provato queste emozioni e ho detto ok probabilmente all'inizio ho pensato ho detto non posso parlare quindi provo rabbia angoscia perché non riesco a esprimermi ok e in realtà sono arrivato alla conclusione che io prediligo anche nelle relazioni normali a me piace dimostrare il mio amore amore affetto ecco alle persone che conosco insomma a qualsiasi persona e il mio modo migliore con il quale riesco a esprimerlo è tramite la voce e quindi io mi sono sentito tanto tanto angosciato perché non riuscivo a dire non lo so parlavo con questa ragazza la sera lei mi diceva buonanotte magari prima di andare a dormire io non potevo dirglielo e questa cosa veramente mi angosciava tantissimo incredibile guarda che la gente dice mazza cioè ammirazione no grazie margherita che altri test hai fatto allora finora abbiamo non parlare per una settimana fare allenamento in modo da cambiarti fisicamente forse eri più cicciotello non lo so è uguale no non era per cambiarmi fisicamente era per stare bene ah no ah ecco era proprio una cosa per dormire no 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 per stare bene come stesso essere energetico e tutto il resto fantastico la mattina svegliarti motivato vogliamo dirla così sì che ti fa un po' schifo però dai per svegliarti bene è giusto è giusto per partire durante la giornata che altro hai provato? so della tecnologia sì allora le cose che mi sono rimaste più difficili durante la giornata io sono uno studente studio ingegneria informatica e le cose che mi sono rimaste più difficili sono state studiare e mangiare cioè mangiare nel senso che io mi ritrovavo spesso sembra strano perché quando dico queste cose mi dice ma che problemi c'hai? devo dire che questa mi stupisce ciao Rosa sì esattamente che intendi? intendo che non lo so un giorno mi svegliavo sempre fai quanto alle sette per un periodo e però arrivavo magari facevo colazione alle sette poi a luna avevo fame però non lo so ero talmente concentrato su quello che stavo facendo che dicevo sì dai vado tra 5 minuti 10 minuti e poi saltavo il pranzo direttamente e mi succedeva spesso questa cosa e sinceramente devo dire la verità questa cosa qua è un po' casino ancora cioè ancora ti capita vabbè vuol dire che sei che hai a disposizione una grande capacità di focalizzazione di focalizzarti quindi questo non è niente di male certo mangiare non riuscire a mangiare magari se riesci a evitare di farlo per tipo 3 giorni è meglio per la tecnologia cosa hai fatto? anche lì cioè poi guardate Giuliano è uno che fa non è che dice sei quelli che smettono di fumare tipo vabbè dai adesso sto diminuendo no? no Giuliano non è così è sto una settimana senza parlare poi è sto una settimana tipo per quella senza tecnologia era più che altro un dire ok finita la sessione di esami finito tutto stacco una settimana completamente da tutto youtube università anche non potevo neanche stare al cellulare con le persone ecco non potevo chiamarle e io sto per l'appunto in un paesino sperduto nel mondo e sono senza macchina adesso perché ho tolto l'assicurazione che non mi serve quindi non è stata la scelta migliore ecco probabilmente quindi zero contatti potremmo dire zero io ho sempre mio fratello mia sorella mia madre a casa in casa? sì sì in casa io non vivo da solo però fuori poi ero a Manchinsona arancione se non sbaglio comunque non potevo cioè non è che potevo andare al bar così non ero assolutamente fattivo almeno dici almeno esco un po' invece no quindi tu hai sperimentato l'isolamento sociale dovuto alla mancanza di tecnologia assolutamente cioè ti metti proprio alla prova guarda che già stanno arrivando a parte che Matteo ci ha detto per me sarta i pasti proprio la sciapetta ne esiste ovviamente pure devo dire Giulia che ci ho provato pure io ho avuto qualche difficoltà ci ho iniziato a sbarionare vabbè adesso è un'importante Silvia Silvia sta dicendo soluzioni stravaganti per i problemi due punti dopo una brutta malattia avevo perso la facoltà di leggere ho ricominciato nelle riviste di gossip di gossip perché avevano tante figure ed erano piene di fesserie che mi facevano ridere questo è bellissimo Silvia complimenti non è da tutti raccontarla questa cosa tra l'altro perché uno potrebbe dire pure e invece cioè guarda è usato come usare il gossip in maniera produttiva Emiliano ciao ben arrivato e qual è lo scopo di questi esperimenti adesso tu Giuliano potremmo anche dire è scontato si sa no? no non si sa raccontaci secondo te qual è lo scopo allora ogni esperimento ha uno scopo diverso faccio l'esempio sempre settimana senza tecnologia volevo isolarmi socialmente volevo staccare da tutto e uno scopo principale forse lo scopo principale era quello di organizzarmi la vita per bene quindi dedicare questa settimana a pensare cosa voglio fare dopo che poi non è riuscito perfettamente però è questo lo scopo pensare a cosa volevo fare dopo e rifletterci per una settimana per fare questo cosa ho fatto? mi sono comprato tre libri un libro attached si chiama così non so come si chiama in italiano comunque attaccamento tra due persone diciamo così che è un libro che parla di fondamentalmente di amore come gestire le relazioni così e io avevo una relazione che dovevo per forza gestire nel modo migliore in cui potevo sistemare via sistemare no proprio gestire e quindi sono stato tre giorni a pensare a questa roba tre giorni di seguito poi ho preso un altro libro che si chiama getting things done detto fatto se non ricordo male in italiano l'ho fatto in italiano e è proprio un metodo per organizzarti la vita e il suo motto è le idee sono fatte per no l'uomo è fatto per generare le idee non per trattenerle quindi qualsiasi idea io ti fai conto grazie a quello mi sono preso i post-it che non avevo mai utilizzato adesso se guardi di qua ho 30 post-it è pieno e niente quindi grazie a questo mi sono organizzato mi sono fatto tutti gli schemi tipo qual è il mio scopo non nella vita tipo nelle relazioni nell'università qual è il mio scopo tra un anno tra tre anni è tutto descritto lì e quindi niente questo è stato lo scopo di questo video di questo esperimento di altri ovviamente c'erano altri scopi un ragazzo deciso Giuliano forse questo gli permette di uscire dalla sua zona comfort o dalla sua comfort zone con più facilità e risultati perché andare per piccoli step temo guarda che figata temo porti al rischio di non uscirci mai da quella zona comoda no? oddio questo è non lo so che dice? allora questa è Silvia che se lo dice non lo so è possibile perché tu hai individuato Giuliano tre aree guardate io lo 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 ciò mi sento non chiaro sul futuro che faccio? prendo tre libri uno due tre uno parla di quello uno parla di quello uno parla di quell'altro sto zitto non faccio niente per una settimana penso solo a queste tre cose mi organizzo e le sistemo è corretto? sì ho fatto così però per la domanda temo di andare a piccoli step teme che porta a non riuscire mai ad uscire dalla zona di comfort questo secondo me si è bloccato ci si è bloccato Giuliano questo secondo me è e ci si è bloccato non me lo dire tornerà ragazzi intanto vi passo un attimo le domande mentre Giuliano si sblocca qualcuno Mauro diceva te la rubo questa idea Giuliano tornerà tranquilli e mi vedi sei tornato dicevi questo secondo te ci sta pensando proprio a cosa dire questo secondo me mi dispiace la connessione o dopo 3-4 secondi che sei rimasto all'auto ho detto che è scusa che è questo secondo te no continua scusa poi andiamo dicevo ma secondo me non è un ragionamento giusto perché allora io ho utilizzato questa tecnica però ovviamente dipende dalle persone proprio da come sei fatto io utilizzo che poi io utilizzo la testica di fare dei cambiamenti drastici ma non è che per prima di prendere un cambiamento drastico cioè ci penso 5 minuti di solito sono anche settimane in cui rifletto e non ovviamente intere però magari rifletto e dico ok io voglio esempio voglio fare amicizia quel ragionamento ci ho messo una settimana per dire ok devo fare amicizia una settimana e mezza anzi per capirlo e poi ho preso la decisione tra virgolette drastica no quindi dire faccio questo subito però c'è da dire sì sì però c'è da dire che quando prendo queste decisioni non funzionano cioè non è che io prendo una decisione e da lì capisco divento Gesù no cioè nel senso ci sono sempre dei piccoli passi magari il primo passo faccio gigante no però poi continuo a tanti piccoli passi no cioè se facessi un esempio del grafico io sono qui sono qua in realtà faccio così faccio così e poi finito questo passo ritorno più in basso no però magari sono più in alto di come ero prima e quindi devo continuare insomma a pensarci a riflettere a fare roba di questo tipo quindi tu ti dai la scossa per la scossa esatto ti dai la scossa perché come diceva Silvia non altrimenti i rischi di non uscire ma dopo che hai fatto perché anche questo guarda che è un grande misunderstanding della della psicologica no della crescita personale del self help devi o devi dare la scossa o devi fare cambiamenti graduali o no devi fare tutte e due prima ti dai la scossa per cambiare perché altrimenti rimani infognato e poi fai degli altri passettini piano piano sinceramente Giuliano dubito che possa essere il contrario cioè faccio prima i passettini e poi mi do la scossa faccio qualche passettino poi scossa passettini si mischia un po' tutto hai bisogno di quel movimento che tra l'altro dice te la rubo questa idea Mauro hai bisogno di quel movimento che a quel punto eh Angelo dice ma e quando tu pensi al futuro non ti deprimi punto interrogativo ci ha messo dopo sì non sempre dipende ovviamente dal periodo della mia vita però sapere che che quando morirò cioè che tutto quello che faccio è inutile mi deprimi un po' però a parte quello beh vabbè dipende se è inutile credo che la domanda di Angelo sia più ma tu quando fai queste cose non lo so eh Angelo chiedicelo diccelo quando tu fai queste cose pensi al futuro di queste cose e ti deprimi all'idea di farle no no esatto è il contrario sono emozionato non vedo l'ora certo eccolo lì Tony Robbins parla di questo come di momentum non so se lo sai parla del discorso di fare questi cambiamenti piccoli grandi quello che te pare in virtù del fatto che se sei in una situazione in merda quando fai il mega cambiamento e poi inizi a fare i pezzettini il mega cambiamento ti dà la scossa quindi io in questo vedo una genialità in te Giuliano e te lo dico chiaramente che tu hai scoperto da solo quello che ci sono formatori che dicono da 40 famosissimi famosissimi che dicono da 40 anni prima ti dai la scossa se hai la personalità per farlo come dice Angelo forse il talento sta nel non tornare indietro una volta presa la decisione cioè nulla ti demotiva perché non ti demotivi a mio parere diccelo e poi perché Angelo è stato brillante in questo Angel Box in realtà credo sia Angelo perché sei stato se non ti demotivi perché tu ti dai la scossa intanto esci dal fossato e poi e questo ti dà il movimento e poi inizi a fare dei piccoli cambiamenti graduali che ti danno quello che si chiama momentum cioè l'eccitazione di andare avanti così non ti deprimi non sei più infognato non puoi tornare indietro puoi solo andare avanti infatti si vede nei tuoi video un grande cambiamento dai primi a quelli che hai fatto adesso quanti ne hai fatti? 15? 20? una ventina una ventina in 20 video tu hai fatto un cambiamento molto forte di te stesso poi Mauro anche la tecnologia voleva prendersi del distanziamento sociale da Giuliano quando hai detto quando tu sei bloccato senti qua c'è certamente ma quando la situazione è chiara procedi c'è chi procrastina per il terribile timore di sbagliare e così facendo non si muove mai meh manco detto questo è un problema gigantesco perché allora questa è una mia idea che mi sono fatta col tempo quindi non è io non l'ho riletta da punte parti anche perché magari non ho mai visto qualcuno trattare questo argomento però io credo a parer mio che quando prendi una scelta quindi io scelgo se non lo so studiare o stare al cellulare se prendo una scelta poi qualunque scelta sia quindi se la mia scelta è stare al cellulare per la prossima ora intendono la prossima ora scelgo di stare al cellulare poi qualunque anche se è meno produttivo ecco porterà meno risultati sarò comunque abbastanza felice ecco se invece io non prendo una scelta quindi sto al cellulare o studio insomma come avevo detto non prendo questa scelta poi sono in ansia e non e mi sento molto triste ecco e quindi io cerco sempre di prendere una scelta poi se la scelta ricordiamo ricordiamo che simbolicamente Dante parlava degli ignavi come punti dai mosconi rincorsi dai mosconi e dal punto di vista simbolico e con l'interpretazione psicoanalitica che sarebbe venuta dopo forse avremmo scoperto che ci stava dicendo proprio questo che la scelta quando non è presa ti condanna all'immobilismo no è un immobilismo fisico o non lo so mentale quello che vogliamo ma è una fuga continua dai mosconi che ti pungono dalle vespe che ti pungono dall'ansia dalla preoccupazione da rimanere lì sulle si dice sulle spine guarda che cosa brillante che è questa e Paolo dice uscire dalla zona di comfort credo sia come buttarsi nell'acqua gelata potremmo parlare anche di questo io mi aspetto Giulia che tu a breve sperimenti le tecniche di Wim Hof stringi i denti e vai non credo funzionino cambiamenti lenti per tutte le occasioni e mentre Mauro suggerisce if you can't then you must che proprio credo anche una frase di Tony Robbins Matteo ci dice secondo che cambiamento è fare tutto in fretta drasticamente potrebbe anche essere controproducente vero e ti posso fare un esempio io quando ho deciso di socializzare non ho fatto robe drastiche cioè ci ho messo un mese e una settimana cinque settimane in totale per arrivare a stare due ore a parlare con altre persone al giorno e sono partito da un quarto d'ora e ho deciso di prendere questa decisione perché so che mi è risuccesso a volte dico ok esco frega un po' questo sabato sera esco sto quattro ore fuori con le persone e socializzo però tornavo a casa ero più depresso di prima perché vedevo troppi fallimenti in me cioè avevo sbagliato tutto e vedevo sbagliato e cose di questo tipo quindi si dipende molto da dalle situazioni guarda io credo che tu sia una delle persone che è riuscita più da sola da solo sei riuscito a uscire da veramente altro che un fossato sei riuscito da uscire da un pozzo in cui ti eri un po' infilato perché poi un po' ci sei infilamo tutti infatti guarda che Angelbox dice neanche ci pensa allo sforzo del cambiamento lo fa e basta trovi una motivazione specifica per quello che vuoi fare e vai in focus come diceva Geller una sola cosa c'è allora credo che si legga The Port Sun Park che ci dice grazie mille che è tutto vero che lui è distrutto dopo 14 ore credo non so bene di cosa e dice davvero devastante qualcosa incredibilmente potente devastante grazie mille Giovanni beh Giovanni no grazie mille Giuliano io direi perché è lui che ci sta facendo scattare o lo sapevo quella molla che dice raga come siete messi in questo momento cioè io vi faccio noi vi facciamo la domanda voi in questo momento dove siete fisicamente no chi se ne frega dove siete mentalmente che problemi avete cosa sentite che non vi non vi va tanto bene nella vostra vita non vi piace tanto Giuliano ci sta dicendo correggimi eh Giuliano ci sta dicendo beh senti senza fatte tante pippe mentali vedi un po' che e cambialo come senti come deve basta che ti sbrighi inizia facendolo poi vedi come ti senti perché tu hai fatto anche questo è giusto cioè inizio a vedere provo una gradualità vedo come me sento mi sento male cose del genere sì sì perché questo in realtà l'ho letto in un libro cioè io tutti questo cambiamento sono stato sempre assistito diciamo che sì dai libri ho letto un libro a settimana leggo più o meno da cinque mesi e e quindi questo libro non mi ricordo che libro era comunque diceva spiegava che la cosa migliore da fare è prima di trovare la motivazione fare questa fare l'azione quindi tu inizi facendo qualcosa e poi questa cosa ti genererà genererà motivazione bravissimo certo quello infatti emotion comes from motion quello che si dice sempre sì proprio così hai detto bene la motivazione non nasce dal desiderio dalle visualizzazioni sai quelle cagate che si dicono la motivazione nasce quando fai le cose ti riescono e allora ti motivi questo è un grande fraintendimento che prima motivazione e poi azione no prima azione e poi motivazione prima faccio vedo com'è e poi mi sento bene e continuo quindi se dovessimo dare un suggerimento alle persone che ci stanno ascoltando fai qualcosa quello che te pare non ti piace cambia qualcosa buttati cambia forte cagati sotto fallo e poi vediamo che succede domanda a sto punto cosa vorresti migliorare di te stesso nel futuro prossimo che significa allora che che video farai cioè che ce farai quello del gelo lo farai non lo so in realtà non lo so io ho diverse idee dei video però c'è tipo veramente un centinaio ma le butto lì poi quando mi va lo faccio quindi non lo so dipende veramente da cosa mi va di fare adesso cosa sei allora la prima facciamo una cosa la prima che ti viene in mente la prima che mi viene in mente sì la prima voglio no mi ero venuto a mente di stare due giorni su una sedia e vedere cosa succede però non so non so cioè perché ci sono diverse complicazioni che non è semplice mangiare andare in bagno sai come faccio io in effetti che significa senza andare a letto eh sì anche quello perché adesso guarda facciamolo questo gioco come mai ti è venuta st'idea questa è della sedia non è casuale vero no no assolutamente no spesso penso a cose Matteo ti scrive pazzo in senso buono è perché uno dovrebbe stare due giorni ma mi sa tre quattro due giorni su una sedia c'è gente che sta in carrozzina per vita entere per vita entere sì e quindi tu vorresti capire che cosa si prova perché quest'idea mi è venuta dopo che ho visto un video di un ragazzo che si può dire è morto di cancro e faceva questi video online sinceramente io sono uno super emotivo empatico anche e quindi devo dire che mi sono scese qualche la clinica mi ha colpito tanto ho detto io non provo queste cose non lo so e mi ha fatto strano e quindi mi era venuta sia prima l'idea del stare senza parlare poi magari anche stare senza vedere ma stare senza vedere è un casino assurdo cioè con una benda fisso per una settimana però come faccio sono cose veramente troppo troppo io ho come un sospetto ma vabbè continua no no effettivamente se ti stai mettendo il dubbio se stare due giorni su una sedia figurati se non lo farai quello di non vedere continua sì ho detto c'è gente che sta in carrozzina una sedia è completamente diversa però chiaramente mi sarebbe brutto ecco e niente Angelbox dice Giuliano di la verità fai queste cose per divertimento però vuoi lanciare il tuo messaggio io non lo so se le fai per divertimento questo mi incuriosisce è una bella domanda entrambi allora io voglio lanciare un messaggio e io vi faccio video su youtube so più o meno come funziona youtube se io facessi un titolo dove scrivo non lo so qualcosa di normale ecco ce ne sono già tanti altri e non susciterei le stesse emozioni cosa che se scrivo nel titolo non lo so ho provato le routine di Marcella Scani e poi ci metto quelle tre ore di me che socializzo e spiego le emozioni che ho provato robe di questo tipo so che il pubblico che mi segue più o meno è sempre quello ed è interessato a questo ed è interessato a quello e quindi io magari ci metto qualcosa di più pazzerello insomma per attirarli e poi cerco di insegnare quello che ho capito io quindi mi diverto mi diverto tantissimo a fare queste robe poi che ci voglia tanto tempo e impegno sì ma io mi diverto se no non lo farei io credo che credo che la domanda di Angelbox sia un pochino più sottile nel senso che lui ha scritto fai le cose per divertimento ma in realtà sotto sotto ho come l'impressione che tu lo faccia come stimolo emotivo tu ci hai detto che sei molto emotivo empatico e c'è come un qualcosa che mi dice lì sotto che tu non è che lo fai ah adesso mi diverto sì e poi lancio anche il messaggio così mi seguono perché quando hai iniziato dubito che a te te ne fregasse di avere i mille mila follower all'inizio poi magari adesso ti interessa lo facevi perché hai soddisfatto così un tuo bisogno che è diverso dal divertirsi tu l'hai fatto perché avevi bisogno di socializzare non socializzare liberarti capire eccetera quindi c'erano quindi vediamoci uno stimolo emotivo all'inizio e anche questo è un grosso insegnamento che tu parti dal tuo stimolo emotivo e dici io mi voglio autostimolare non uso gli stupefacenti per stimolarmi mi stimolo io da solo posso fare delle cose assurde tipo star zitto tipo star seduto su una sedia due giorni altro che sostanze stupefacenti e poi questo ti ha dato uno stimolo di livello superiore avrebbe detto Vazlavi o Vazlavic non so come si pronome Vazlavic che è stato quello del seguito non sai che non ci ho mai pensato io devo ragionare in questo modo cioè perché faccio una cosa perché sono io ho sempre detto perché mi diverte però non ho mai dato una definizione al divertimento al divertimento e probabilmente perché mi suscite emozioni che mi portano ad essere più felice quindi le emozioni che ho provato quando non parlavo lunedì soprattutto che è il giorno dopo che ho ricominciato a parlare ho provato delle emozioni bellissime mi sono sentito fortunato a poter parlare sì che sono cavolate però non a caso questa diretta non si chiamava cambia tutto molla tutto e vai a vivere alle figi si chiamava come cambiare in qualunque momento qualunque cosa tu voglia per essere il doppio più felice e tu ci stai confermando che è quello che ti succede che tu dopo che hai fatto l'esperimento di cambiamento sei felice anche durante tra l'altro per te è importante essere riconosciuto come essere umano domandone è un domandone proviamo a interpretarlo essere riconosciuto il riconoscimento dire caspita tu sei un essere umano di un certo valore un essere umano non sei una pianta che sta fermata là con tutto l'amore per le piante sei uno che si muove per te è importante che la gente ti veda non lo so è una domanda difficile questa è molto mi hai riflettuto la mando perché è un domandone è un domandone vedi l'ha specificato poi essere accettato essere accettato come se vabbè insomma è un po' importante per tutti essere accettato cioè come dire ragazzi me volete bene pure se c'ho la pelata dai ditemi che me volete bene certo che è importante essere accettato però forse ti sta chiedendo se tu lo fai per quello per desiderio di accettazione bella domanda probabilmente si non lo so io dico magari di no nella mia testa però molto probabilmente si molto probabilmente si vero e Paolo dice desiderio è mancanza infatti desidero no guardare le stelle da lontano desiderio è mancanza quello che hai non lo desideri lo godi hai mai pensato a godere delle conquiste che hai fatto ti dico questo perché raggiunti gli obiettivi spesso non siamo felici perché pensiamo sempre a realizzare qualcos'altro Paolo io lo conosco dalle nostre dirette è una persona che è capace di fare delle domande molto che vanno proprio stampate proprio precise precise quindi non so non c'è bisogno neanche di parafrasarla tu te le godi le conquiste che fai Giulia per dirci anche noi ce le godremo quando proveremo questa è una bella domanda perché cioè questo è uno dei problemi principali che ho nell'ultimo periodo da quando ho iniziato a raggiungere i piccoli obiettivi di frequente quindi da almeno 4-5 mesi e ne ho parlato in un video nel video dove sono stato 10 ore a ripetere la stessa frase che è raggiungo i miei obiettivi di seguito e all'inizio dico io voglio raggiungere i miei obiettivi però qual è il senso di raggiungere un obiettivo se poi ne metto uno sopra di obiettivo e quindi l'obiettivo raggiunto diventa la normalità e allora qual è il senso se non riesco a godere di quello che faccio raggiunto l'obiettivo in questo momento sono arrivato probabilmente a una conclusione sbagliata perché allora intanto ci tengo a piacere questa decisione cioè questa decisione questa cosa che ho pensato io quello che questo ragionamento qua io non riesco a arrivarci ed è uno dei motivi principali per il quale ho deciso di andare da uno psicologo comincerò tra una settimana sì sì ma per dire anche poi è un bel esperimento oddio non mi viene la parola cioè è un bel esperimento non tutti lo fanno sette italiani su dieci dicono di no non lo vogliono fare cioè non lo so dipende dalle situazioni e niente e quindi e quindi sì io sono arrivato alla conclusione che mi devo divertire divertire mi deve piacere durante il percorso perché esempio video degli esami anche queste sono molte cose che ho ripetuto nei miei video però ho bocciato tutti gli esami del primo semestre all'università molto devastante mi ha distrutto emotivamente però cosa ho notato ho notato che io studiando cioè mi piacevano quelle cose che studiavo e arrivata alla fine ho semplicemente semplicemente non ho passato gli esami ma mi sono divertito quindi per tre mesi mi sono divertito divertito io ho questo significato magari un po' diverso dalle altre persone vabbè sì sì insomma mi è piaciuto mi ha pagato mi ha pagato mi sono pagato per tre mesi e poi quest'esame mi è andato male ma non toglie il resto dei tre mesi quindi l'obiettivo raggiunto o non raggiunto non dico che ha lo stesso peso perché l'obiettivo raggiunto è un po' meglio però ha molto meno peso in confronto al percorso perché il percorso dura veramente tanto tempo e quindi ho pensato ok se io mi metto solo l'obiettivo e dico voglio passare l'esame voglio passare l'esame se diciamo questo puoi arrivare a centomila iscritti e ogni giorno sto a pensare a youtube per otto ore al giorno ma durante questo non lo so due anni questi due anni dove penso ogni giorno a youtube e a come spopolare robe di questo tipo non sono felice qual è il senso cioè arriverò lì e avrò tre giorni di felicità ha senso che senso ha? dopo due anni di paturnie e con l'università è un po' così perché l'università sono più di due anni sono tre o cinque anni dipende anche se uno va fuori forse e tante persone sì e tante persone fanno proprio un sacco io lo dicevo già tanti anni fa fanno un sacco di schemi schemetti adesso mi do quell'esame poi quell'altro esame poi preparo quello poi preparo quell'altro se la godono durante non è che dice mi sto godendo quello che sto studiando è mi godrò l'esame quando l'avrò sostenuto il problema è che intanto te lo devi dare quell'esame perché poi tutte queste cose vengono queste macchinazioni di 73 esami a sessione che poi non ce la fai a darle e poi quando finisci di dare quelli c'hai gli altri iscritti e quindi non hai fatto un cavolo non te la sei goduta hai dato l'esame e ti è venuta già la paturnia dell'esame successivo è una cosa che di cui parlo spesso bella questa cosa che ci hai detto Nicola ti chiede anche hai fatto esperimenti legati alla lettura per esempio leggere 30 minuti al giorno o un'ora al giorno io leggo almeno un'ora al giorno normalmente ma perché un'ora al giorno no quando durante la giornata dico sì sono detto la sera ora ho detto un'ora al giorno non è che tutti i giorni mi metto leggo un'ora mettiamo otto ore a settimana leggo ok e sì e mi piace tantissimo leggere perché entro in un altro mondo penso non lo so mi piace e quindi lo faccio per questo non è proprio un esperimento non è un esperimento lo fai perché ti piace a me Giuliano sembra un ragazzo molto semplice fa quello che ritiene necessario e questa parola semplice secondo me non solo ti calza perché hai un modo semplice e puntuale di parlare e ho notato che non dici mai una parola fuori posto questa è una cosa che ho notato dall'inizio ma guardate che questa semplicità che ci sta facendo vedere Giuliano oggi è come dire che noi ci complichiamo un sacco la vita con un sacco di pensieri e di cose strane quando Giuliano anziché stare lì a pensare in maniera complicata le cose piglia e le fa e si gode pure mentre lo fa oddio ora non è proprio così cioè io ci ragiono tantissimo sulle cose però non vuol dire però cerco sì insomma di arrivare quello è l'obiettivo però ci ragiono tanto insomma più che prendo e faccio una cosa a caso magari all'inizio sì no no dire magari all'inizio se devo uscire dalla mia zona di comfort c'è caso che lo faccio quindi dico ok faccio questa roba a caso perché non so come andare avanti non ho idea di come fare poi però dopo ci ragiono veramente tanto e dico ok posso migliorare questo quest'altro secondo me è molto costruttivo ragionare sugli errori che ho compiuto e cercare cercare perché non sempre ci riesco è difficile una delle cose che mi restano più difficili è migliorare risolvere gli errori che compio pur anche se riesco magari a capire quali sono è proprio difficile nel breve periodo poi nel lungo periodo magari è un po' più semplice però è proprio difficile risolverli lì per lì nel lungo periodo tra l'altro tu hai qua c'è gli esperimenti sono una sorta di ricerca di qualcosa la domanda dipende dal qualcosa credo che possiamo dirla così ma c'è uno schema più grande uno schema più grande tipo dieci anni intendi più che altro penso a te che non stai facendo degli esperimenti come spesso il cervello fa le persone fanno spesso queste sembra che facciano delle azioni casuali che però in realtà non sono mai casuali è come se ci fosse una costellazione di cui a un certo punto scorgi la figura e dici ah ma prima vedevo solo quella stella poi ho visto mi hanno fatto vedere ho visto c'erano anche quella quella e quell'altra e alla fine adesso vedo la costellazione ecco sembra che l'essere umano faccia questi comportamenti che sembrano a volte non finalizzati perché il cervello sta dicendo no no per far per arrivare lì bisogna fare tutto 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 quindi ti chiediamo insomma ti chiediamo tutti noi per te è un c'è uno schema che ti porta a vedere te stesso nel futuro per esempio qua c'è la domanda se gestire il mondo che hai dentro per esempio se io non lo so che cos'è sinceramente perché io ti ammiro molto per quello che fai e non sono in grado di farlo per il momento non so sperimenterò io non ho uno schema sinceramente cioè lo schema ce l'ho ho l'obiettivo finale tipo dire perché io voglio migliorarmi come persona perché voglio arrivare a essere in quel modo e è un obiettivo forse scemo però io vorrei insegnare a mio figlio le cose che farlo stare non meno male possibile però insomma fargli magari capire dei concetti fargli vedere che io a vent'anni ero come lui e mi piacerebbe tantissimo questa cosa e quindi questo è un po' il mio scopo che magari è lo scopo che dico in questo modo poi ora come ora magari è un altro io penso che sia questo in realtà un altro mi succede spesso cioè io spesso penso che sia una cosa come quando ho cominciato il canale ma tantissime volte penso che sia una cosa poi ci ragiono dopo mesi e dico cavolo ma io quella cosa non l'ho fatta assolutamente per quello l'ho fatta per una motivazione completamente diversa e e quindi io tipo esempio settimana senza parlare sono arrivato alle conclusioni alla fine le conclusioni quelle vere vere perché ci ho ragionato e tutto il resto e non so che punto è diciamo dello schema gigante perché mi potrà servire questa settimana qui per cosa precisamente però so che non lo so mi serviranno tutti questi esperimenti perché tu non l'hai ancora visto lo schema finale è qualcosa che vedrai alla fine perché è finale certo tu per il momento ti metti dei micro obiettivi per fare delle cose fighe tra l'altro che però non sai bene a cosa corrispondano guarda questo è molto bello io sono non mi aspettavo neanche tra le tante interviste noi facciamo ogni settimana i web intervista presto a poco tra le tante questa forse è una di quelle che mi colpisce di più perché non è pratica nel senso che non è sulla risoluzione di un problema di studio o professionale è un'intervista in cui mi colpisce la la profondità di quello che hai detto anche sull'idea di voler essere meglio per essere meglio per gli altri per un figlio Giuliano la tua semplicità ti permette di affrontare in maniera efficace gli obiettivi senza pipi mentali però ti sarà capitato di pensare più profondamente su ciò che fai questo l'ha scritto probabilmente in Joybox mentre mentre tu dicevi esattamente questo che tu ci pensi un sacco prima o dopo ma non ci non ci pensi in maniera difficile complicata complessa sì ma non complicata e non immobilizzante più che altro non durante cioè spesso quando prendo una decisione durante questo si parla magari di decisioni più piccole io non ho mai preso decisioni assolutamente grosse sempre l'esempio sempre settimana senza parlare durante la settimana non ci ho ripetuto tanto ho semplicemente ascoltato le mie emozioni e basta ma non più di quello però sì cioè io ci penso molto profondamente a quello che faccio anche dopo e spesso esempio l'ultimo video che ho pubblicato si chiama ho sprecato l'ultimo mese della mia vita sì e lì spiego appunto che questa cosa magari era derivata più dai commenti che da altre cose nell'ultimo mese ho fatto un po' robe a caso che non che non vanno proprio a combaciare con la mia personalità perché ho sentito opinioni di tante persone diverse quindi mi sono messo a leggere i commenti poi quando uno fa diverse come si dice ciò che piace alle persone è la domanda eh quello è cioè tu hai fatto delle cose perché le persone ti chiedevano di farle assolutamente no e questa secondo me è la cosa che ho fatto la cosa più giusta che aveva potuto mai fare infatti nell'ultimo mese dico questo perché io nel mio schema avevo i miei obiettivi era diciamo un po' quello che facevo normalmente ecco era organizzarmi la vita e ci sono stati diversi commenti dove mi dicevano sei un programmatore la vita non va programmata soprattutto a 20 anni non ha senso o cosa dicevano eh sì cosa comunque di questo tipo non erano d'accordo via con questo tuo con questa tua iperorganizzazione cioè sarei stato più felice in pratica l'idea di base sarei stato più felice se non avessi programmato la vita opinione loro opinione loro ok però a me mi ha condizionato tantissimo perché poi non è che uno dice non è che era un commento che diceva così o magari tutti andavano da quella parte tutti dicevano la stessa cosa no uno ti diceva magari non non programmare l'università un altro non programmare YouTube non programmare le relazioni non fare questo non fare quest'altro era un casino assurdo infatti mi sono scritto una frase che non ricordo com'era su un post-it su un post-it dove a un certo punto stavo questo era verso la fine di di marzo ci stavo morendo per questa cosa ero tipo aiuto perché le persone mi danno consigli per farmi essere più felice e questi consigli solamente il fatto che loro mi diano dei consigli mi fa essere più triste e questo anche questa è una motivazione per il quale voglio andare dallo psicologo per risolvere questa cosa dei commenti che non riesco evidentemente a perché posso confermare che il commento nel senso che quando una persona si mette così in mostra due e vent'anni tra l'altro si mette così in mostra e inizia a ricevere così tanti commenti mettiamoci anche questo e la gente che dice uno sì uno la dice cotta e uno la dice cruda non è facile mantenere la propria individualità soprattutto le proprie scelte le proprie idee soprattutto quando tu sei una persona che come dice Angelbox libera la sua creatività se ne hai bisogno o come l'impressione che tu non ne abbia bisogno ovviamente tanto comunque che libera la sua creatività e si mette a fare delle cose strane che lo destrutturano tu ti sei ritrovato e questo questa è una cosa che bisogna dire che tutti questi esperimenti che si fanno per uscire dalla propria zona di comfort un'altra cosa che non si dice nei corsi di formazione nei libri è che quell'uscire dalla zona di comfort non è piacevole perché la zona di comfort ti dà un comfort ti fa stare bene quindi quando ti dicono quelle cose fighissime esci dalla tua zona di comfort per essere un essere umano aumentato migliore sì ho capito però te ne sbucci la destrutturazione non è che sia sempre sempre il massimo poi piano piano arrivano delle altre cose credo mi pare di capire questo i commenti non aiutano via il fatto è che sì sì ovviamente i commenti non aiutano no più che altro il fatto di uscire dalla zona di comfort a me ha fatto tanto riflettere una frase che lessi su Men's Search for Meaning mi sembra dove spiegava che diciamo cercare di Men's Search for Meaning è il non so se è un capolavoro un bellissimo libro di Viktor Frankl in cui racconta lo sviluppo della logoterapia che non è la logoterapia la terapia logopedistica è la logoterapia cioè la sua terapia psicoterapia della parola chiamiamola così e racconta la sua esperienza nei lager tedeschi va bene vai vai lui faceva un esempio dove dice cioè non un esempio diceva una frase che era cercare di non affrontare la le sofferenze è peggio della sofferenza e e io ci ho ragionato è vero per me è veramente così cioè io mi sono trovato tante volte a soffrire perché non volevo affrontare delle situazioni e questo in pratica è quando una persona non esce dalla zona di comfort magari non te ne rendi conto perché sei lì e ti piace però alla fine tu non stai affrontando delle situazioni che dovresti affrontare e ti rende più infelice che se effettivamente le affronti quindi magari lì per lì sì è un po' più destabilizzante può essere un pochino peggio emotivamente ma non è neanche così per me non è così solitamente però nel lungo periodo lungo ma intendo anche un mese cioè un veramente corto un mese alla fine hai dei risultati assurdi che fantastico Giuliano si mette alla prova e si diverte e non solo Giuliano oggi in questa intervista poi Giuliano adesso se ci vuoi dire anche qualcos'altro siamo già un'ora e dieci non voglio trattererti troppo Giuliano in questa intervista oggi ci ha detto ci ha dato guardate lo sapevo la guida per il cambiamento come ti senti adesso cambia non va bene non ti piace cambia come subito improvvisamente in maniera forte poi poi continua però con pezzettini perché non perché è un scopo finale diventare ricco famoso intelligente super uomo perché in quel momento ti sei reso conto che sei in un comfort che ti fa stare bene ma non benissimo cambia è difficile sì è anche bruttino in alcuni momenti ma dopo dopo un po' di tempo ne vengono le cose buone ti senti meglio e quindi è come dire sto qui cambio qualcosa sto male però poi sto meglio sto qui cambio qualcosa sto male poi sto meglio e nota quanto è il contrario della curva che tu ci hai raccontato sto qui cambio qualcosa di importante poi cose piccole è esattamente l'opposto se ci pensi male bene male bene fantastico ci vuoi raccontare qualcosa ci vuoi dire qualcos'altro mi ricorda un po' l'alchimista di quello gli alchimisti cambiano la materia diventa alchimista della tua vita Giulia mi sa che questa la scrivemo su qualche post fanta bellissima questa frase è bellissima mi sa che me la rivendo pure io io volevo aggiungere una cosa vai magari l'ultima cosa però se la lascio perché è troppo bella dimmi ho visto il primo commento di mi ricordo male Paolo che diceva che buttarsi uscire dalla zona di comfort è come buttarsi nell'acqua ghiacciata e secondo me già io volevo dare magari un consiglio sulla mia esperienza anche se ho 20 anni che non è niente però proprio un consiglio che secondo me funziona benissimo se tu sei sul bordo della piscina immaginate di essere nel bordo della piscina e c'è l'acqua ghiacciata e puoi fare tante cose puoi tornartene indietro puoi parlare con il tuo amico che hai vicino puoi decidere di buttarti quindi hai tante scelte nel momento invece in cui sei in uno spazio di un metro per un metro e davanti a te c'è l'acqua ghiacciata non puoi fare altro che vedere quell'acqua e l'unica cosa che puoi fare è buttarti lì e questa cosa io nella vita reale questa è una metafora idiota però io la faccio con la noia cioè dico io posso fare un miliardo di cose ok e quindi non voglio fare quella cosa lì che dovrei fare invece mi metto in uno stato di noia completa dove o faccio quello o non faccio niente e il 99% delle volte finisco col fare quella cosa perché immaginate di essere un quadrato di un metro per un metro c'è l'acqua davanti e sai che c'è una bella acqua dove puoi fare tante cose l'impatto del cielo è sicuramente meno meno peggio sì meno peggio migliore e meno peggio di tutto quello che puoi fare dopo e quindi io sfrutto la noia sempre questo interessantissimo il discorso di sfruttare la noia Giulia io con questa ripeto questa bellissima frase sotto che è quello che tu ci hai insegnato a fare l'alchimia della tua vita io voglio ringraziarti per quello che hai condiviso che avevo immaginato che sarebbe stato prezioso ed è prezioso per chi lo ha ascoltato per chi lo sta ascoltando è prezioso per me te lo confesso hai detto delle cose preziosissime è prezioso per quelli che lo vedranno dopo perché lo vedranno dopo e a mio parere è prezioso anche un po' per te perché forse per la prima volta ti ti sei reso conto mentre Paolo dice la noia è lo scenario della creatività ti sei reso conto che quello che fai ha una valenza sociale psicologica enorme e che può essere di enorme aiuto per tutti i nuovi quindi Giulia che ti devo dire continua a usare la noia come scenario della tua creatività continua a fare l'alchimista della tua vita complimenti per tutto quello che fai e grazie per tutto quello che ci hai detto oggi grazie a te credo che tu e grazie a tutti e credo che tutta la sia cavata benissimo perché Giuliano all'inizio mi ha detto la mia prima intervista non so magari non ne capisco niente ma ho come impressione che ce ne saranno tante altre e quindi complimenti Giuliano e grazie ancora se ci vuoi dire qualcos'altro se no ci salutiamo e salutiamo banalmente io facendo questa intervista sono uscito dalla zona di comfort l'ho letto ieri su instagram che hai detto ieri oggi forse anche che hai detto che saresti uscito dalla tua zona di comfort proprio facendo questa prima intervista guarda splendido Giuliano hanno ragione complimenti a te continua così non vediamo l'ora di vedere i tuoi video come call to action andate a vedervi il canale di Giuliano che si chiama vita da ventenne a me piace molto sono molto curioso di vedere le prossime prudezze e le prossime i prossimi test Miria dice se a vent'anni è arrivata a queste riflessioni non oso pensare che farà in futuro c'è tanta materia da cui può nascere una bella stella conosco bene Miria e sapevo che avrebbe tirato fuori il metaforone meraviglioso grazie Miria come ti fa sentire Giuliano è piacevole lo vedi sì perché probabilmente è proprio così Simonetta che ci ha ascoltato ci dice grazie ciao da Cagliari insomma Giuliano ancora grazie ti salutiamo tutti complimenti useremo tutto quello che ci hai detto ricordo di iscriversi al canale di vita da ventenne per vedere le varie insomma protezze di Giuliano e già che ci siete di iscrivere qui sotto nei ecco grazie di averci resi partecipi delle tue esperienze ti auguro il meglio per te bellissimo Paolo detto questo Giuliano scrivete qui sotto continuate a scrivere la diretta rimarrà disponibile sui vari canali e presto sarà disponibile anche sul canale di Giuliano dove potrete continuare a commentare personalmente rispondo sempre ma ho visto che anche Giuliano risponde sempre ai commenti quindi diventerà una bellissima continuerà a crescere una bellissima commenti grazie ancora Giuliano fantastico salutiamo tutti salutali tu ciao ciao a tutti ragazzi complimenti e ci vediamo molto presto qui con il web intervista seguite Giuliano su vita da ventenne a presto e ciao a tutti ciao ciao